L'iridologia ci rivela i punti di forza, i punti di debolezza, quelle che sono le transizioni che viviamo su base quotidiana o a lungo termine. Quindi ci rivela l'occhio davvero quello che è il nostro cammino, il nostro percorso su questa esistenza terrena. Noi comunichiamo attraverso l'uso e l'aspetto dei nostri occhi. Grazie a tutti.